la valutazione finale assegnata a questo articolo di mister siga è di 9.2 voti su un totale di 10 è il più esclusivo di questa selezione ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono antigraffio ottimo rapporto qualità prezzo assorbenza se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video vileda ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.8 su un totale di 10 punti risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo le sue peculiarità sono leggero robustezza assorbenza antigraffio ottimo rapporto qualità prezzo comodo trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video questo articolo di spontex ha riscontrato una valutazione di 8.6 su 10 totali è il più scontato di questa selezione i punti di forza sono ottimo rapporto qualità prezzo assorbenza antigraffio in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto spontex ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10 risulta al momento essere il più venduto questi sono i suoi punti di forza ergonomico ottimo rapporto qualità prezzo assorbenza longevità antigraffio in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato il voto finale aggiudicato da questo articolo di arix è di 8.8 voti su 10 questa è la nostra scelta migliore le sue principali funzionalità sono ottimo rapporto qualità prezzo assorbenza antigraffio se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video grazie a tutti